Inaugurato lo scorso 29 marzo a Gubbio nei locali dell'ex seminario, il CAV, il Centro Antiviolenza, in questi mesi ha accolto dal primo aprile ad oggi nove richieste di aiuto, avviando altrettanti percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Tutti fanno riferimento alla zona sociale 7 e per la maggior parte provengono da donne italiane vittime di violenza di vario genere, fisica, verbale ed economica. Circa 50 le telefonate ricevute e una quarantina e colloqui sostenuti dagli operatrici del centro altamente formate. Sono loro ad accogliere le chiamate delle donne, ad ascoltarle e ad accompagnarle in base al tipo di percorso che vogliono intraprendere. Solo se c'è la volontà da parte delle richiedenti, vengono infatti attivate consulenze ovveri e propri percorsi di fuoriuscita dalla violenza. In appena sei mesi le nove richieste del CAV a Gubbio costituiscono un dato allarmante, coerente con le recenti notizie di cronaca che testimoniano il dramma senza fine delle donne vittime di violenza. Secondo il report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Interno, alla data odierna relativamente al periodo 1 gennaio 19 settembre 2021, sono stati registrati 206 omicidi con 86 vittime donne, di cui 73 uccise in ambito familiare e affettivo. Di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del partner, ex partner. In una sola settimana, quella appena conclusa, del 13-19 settembre 2021, risultano essere stati commessi 8 omicidi, di cui 5 con vittime di sesso femminile. Di questi, 4 sono stati commessi in ambito familiare e affettivo. Il centro antiviolenza di Gubbio, aperto 5 giorni su 7, con una reperibilità 24 ore su 24, attraverso il numero 353 4143438, ma anche al numero di riferimento antiviolenza nazionale 1522, è un luogo di accoglienza, ma anche di costruzione, di progettualità e competenze e di collaborazione con le istituzioni. Lo scorso venerdì a Gubbio la Commissione Pari Opportunità, l'Associazione La Città delle Donne e l'Associazione Liberamente Donna, che gestisce il CAV, hanno tenuto un incontro con Giuliana Baldinucci, che a 73 anni ha percorso la via Francigena da Gubbio fino a Roma a piedi, zaino in spalle e bastoni alla mano, per supportare l'attività dei centri antiviolenza. Ho deciso di fare la camminata, inizialmente come sfida con me stessa, per vedere se io riuscivo a fare quello che facevano tanti passanti, che vedevo passare per la via di San Francesco. Poi ho deciso però di aggiungerci una finalità e la finalità, siccome sono una donna e ho sempre lavorato anche per le donne, ho deciso che doveva essere quella di aiutare i centri antiviolenza, perché avendo parlato con l'Associazione Liberamente mi avevano detto che avevano problemi economici. Allora io scrivevo, io cammino, voi contribuite. Ho camminato con abbastanza fatica, ma facendo una bellissima esperienza.